Questo è l'incidente più assurdo che io abbia mai visto Ma una pallottola praticamente Assurdo Incredibile che non abbia rotto in questo impatto Ma finalmente è una cosa reale Anche loro prendono il cordone e muoiono Oddio in realtà hanno rischiato tutti Madonna Questo è l'incidente più spettacolare che aveva mai visto in questo gioco